Oltre 280 chilometri con un dislivello che va dai 745 ai 1500 metri, divisi in quattro tappe alla scoperta delle marche. Si tratta della nuova impresa, promossa da Cremona Corre e con sporso tecnico biciclista, tutta al femminile, composta da otto cremonesi rinominate pedi belle in movimento. La partenza è fissata per il 22 luglio prima dell'alba, il termine il 25. L'anno scorso in tre ragazze abbiamo fatto una vacanza di tre giorni in bicicletta in Toscana e visto che altre nostre amiche avevano questo desiderio di fare qualcosa insieme di simile, quest'anno ci siamo ritrovate in otto ragazze, tutte amiche cicliste, e abbiamo deciso appunto di fare quattro giorni nelle marche. Il primo nell'entroterra, il secondo tra praticamente gli appennini e il mare, il terzo un po' più lungo di 100 chilometri e 1500 metri di dislivello, e il quarto invece rimarremo più sul mare. E vogliamo in qualche modo far vedere come, indipendentemente dall'età che ha, perché comunque siamo tutte donne diciamo mature, grandi, che abbiamo tra l'altro iniziato da poco ad andare in bici, insieme, condividendo anche la fatica, tutto davvero è possibile. Da Cremona Corre è la soddisfazione di vedere iniziative di questo tipo, con l'auspicio che queste possano crescere in futuro. Credo di poter dire che Cremona Corre è sempre stato uno sponsor dello sport femminile in genere. Nelle attività che pratichiamo, ciclismo e podismo, nello specifico ciclismo, noi siamo sicuramente contenti di questa iniziativa che è stata creata dal nulla, diciamo, ed è, sta riscuotendo un successo tutto femminile.